Il Bari è una squadra importante, una squadra difficile, una squadra che ha un attacco, credo uno forse dei migliori, però c'è il Bari, non è che ti puoi andare a scegliere con chi giocare, quindi noi dobbiamo andare là, stadio importante, ci sarà pubblico, credo che ci sono tutte le componenti per tirare fuori qualcosa che abbiamo dentro. Perché nel calcio siamo bravi a dire che l'allenatore poi diventa tutto troppo bravo, se con Entella e Crotone sono state fatte scelte che sono state apprezzate da voi, dalla stampa, scelte anche che nessuno si aspettava, non voglio ritornare indietro sui nomi, è perché l'allenatore è attento e non guarda in faccia molto a quello, ma cerca di andare negli equilibri a fare delle scelte in funzione della prestazione, di chi è acceso nella testa, di chi ha voglia, di chi vuole mettersi in discussione, di chi ha fame. Non è che in tre settimane l'allenatore che prima faceva delle scelte e ora non le fa più, oppure ha paura di fare certe scelte, no, rimane lo stesso allenatore, è chiaro che ci sono degli equilibri di gruppo, di squadra, ci sono tante situazioni, ci sono problematiche anche di organico, cioè mi viene sabato, dobbiamo fare la conta anche per arrivare a portare un gruppo di ragazzi ad effettuare una partita del genere, quindi io personalmente rimango attento e concentrato su tutte queste situazioni qua. Salomon è solo un fatto di condizione fisica, di condizionamento, perché ripeto, è un ragazzo che è stato via tre settimane per una lesione muscolare, è rientrato, ha avuto ancora un piccolo problema, si è allenato tre giorni, quindi è solo esclusivamente un problema di condizione. Pippo purtroppo ha questo problema tendinio che non gli permette di essere al top, però devo dire che anche oggi, stringendo i denti, soffrendo, in questi giorni si è allenato anche bene, quindi ripeto, sono due situazioni dove non sono sicuramente al top. Grazie. Grazie.